ciao a tutti ragazzi e ragazze con qui il vostro diablotex per l'ultimo unboxing che arriverà oggi sul mio canale forse l'unboxing più atteso sto parlando di fatex stella moncrux edition che questa qui non è semplice da trovare ve lo dico io ringrazio ancora i ragazzi di timeout bologna che grazie a loro ho potuto iniziare la serie sul canale poi mi hanno inviato la collector edition e ho rimandato la versione normale dietro quindi un ringraziamento ancora a timeout bologna poi metterò il link in descrizione perché se volete questo gioco ragazzi nelle grandi catene non lo troverete perché non lo cagano non lo cagano altri negozi andate su timeout bologna vi lascerò il link e lo troverete quindi ora passiamo all'unboxing di questa confezione che forse il più atteso e detto questo detto questo ragazzi io poi farò come già successo con kingdom earth che vi farò con il cellulare insomma è un po più un'inquadratura più ravvicinata bene sul tutto per farvi vedere bene questa collector perché ragazzi a me questa qui mi dispiaceva anche ad aprirla però vi dico la verità perché è fatta veramente bene come si può vedere così sfida così ragazzi veramente una collector di un certo livello veramente ma è il vostro diabotex ragazzi non va dove tira il vento perché io di giochi ne capisco e posso dirlo forte allora detto questo questa confezione eccola qui ragazzi veramente bella si apre come un cofanetto sperlari di cioccolatini diciamo diciamo no oppure di vabbè comunque di cioccolatini va bene così ragazzi è un po se posso farvi vedere l'apertura vediamo ecco qua vedete si alza stile scala anche delle scarpe poi lo poggiamo tranquillamente qui che è veramente un casino poi dentro cosa troviamo ragazzi e cosa troviamo dentro troviamo a me inizialmente sembrava un poster poi non è un poster ma è fatto tipo di una tela diciamo no veramente bella una collector cioè ragazzi per certe collector ci vuole stile è bello il gioco e bella anche la collector quindi il discorso io lo chiuderei già qui ecco non è molto grande ma comunque bello eccolo qui vedete ragazzi bello di telo ecco qui fatto veramente bene fatto veramente bene possiamo poggiarlo qui anche te poi ragazzi qui ci sarà e beh non c'è più nulla vediamo un po non c'è più nulla ragazzi quindi poi all'interno troviamo mazzo di carte sono 16 carte che poi farò vedere tutto bene anche con il cellulare tranquillamente così vedete tutto al meglio le faccio vedere anche già qui non c'è problema sono fatte anche veramente molto bene sono fatte veramente molto bene però qui ora cade tutto maremma cinghiala ok sono fatte bene ragazzi ecco qui questa è la prima qui ve le faccio vedere perché giusto così ragazzi ecco qua qui questa collector devo riservare un trattamento speciale a questa collector insomma ecco perché se lo merita ok lo vedevo dietro che si sono fatte veramente bene ragazzi sono fatte veramente bene io poi amo questi giochi giapponesi quindi per me è tutto una cosa che ha pieno stile cioè ragazzi è così è così c'è stile qui ragazzi c'è stile voilà ve le faccio vedere un po tutte qui perfetto quindi questo era il mazzo diciamo di 16 carte che esce nella collector edition io adesso andrò a rinfilare qui anche se non c'era bisogno perché vabbè però io sono fatto su un tipo così preciso poi prima di far vedere un po l'art book che è veramente ben fatto passo anche l'unboxing qui magari 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 un po più veloce perché tanto come l'edizione normale il gioco dentro che comunque già ho messo però è anche giusto che vedete tutto per il meglio dentro la collector cosa contiene cosa non contiene insomma ecco vai apriamo anche questo ve lo faccio rivedere perché comunque fa parte della collector edition fa parte della moncrux edition ecco qui ragazzi questa è la cover di gioco ma che tanto avete già visto nel mio unboxing della versione base normale un attimo ragazzi quando uscita per l'xbox è cambiato come si dice la predisposizione della posizione del disco che ha messo il disco a sinistra mi perdo anche con questo qui della playstation ragazzi cioè inutile succede quindi non posso farci nulla ecco allora rimettiamo un po tutto qui bene vi faccio rivedere il blu ray anche se l'avete visto identico alla versione base non è che eccolo qui ve lo faccio rivedere perfetto quindi questo era il gioco che vi ricordo occupa 37 giga e mezzo quasi 38 ragazzi attenzione e poi l'art book ragazzi è rilegato veramente in una maniera pazzesca ragazzi c'è un art book veramente di alto livello è sì bello in cartoncino sono quegli art book fatti male sono art book fatti come si deve insomma ora non ti faccio mi faccio dire tutte le pagine qui perché non so quante pagine sono 60 non vediamo un po però sono 126 pagine ragazzi cioè insomma insomma ecco inizia in questo modo poi magari con il cellulare che si vede meglio vi farò vedere vi farò vedere insomma vi farò vedere qualche pagina in più adesso qui vi faccio vedere giusto un po tanto l'importante era il contenuto della confezione era il contenuto vediamo un po qualche immagine bella ebbe ebbe insomma ragazzi il contenuto della moncrux edition di fatex stella contiene art book mazzo qui insomma di 16 card dei personaggi un cofanetto veramente molto bello è questo piccolo telo diciamo raffigurante qui è il gioco insomma come una versione base giustamente non è che c'è una steelbook o qualcosa ma di materiale dentro ce n'è tanto allora detto questo il vostro diabotex vi saluta per il momento perché comunque adesso come ho fatto già con kingdomers farò la seconda parte del video dove vedete un po tutto per il meglio quindi iscrivetevi sul mio canale youtube se vi fa piacere se non vi fa piacere vi iscrivete lo stesso quindi funziona così ragazzi non è questo il problema ci sentiremo con i prossimi unboxing e gameplay andiamo subito con la seconda parte del video e poi ci saluteremo lì ragazzi ciao a tutti al vostro diabotex con fatex stella e vi ricordo di chiamare timeout bologna se volete questo titolo oppure andate sul loro sito fatevi registrate ordinati il titolo oppure potete anche fare l'ordine telefonico non c'è problema sono disponibilissimi un saluto ancora ai ragazzi di timeout bologna siete stati gentilissimi vi ringrazio personalmente e grazie ancora di cuore a tutti gli iscritti al mio canale e ragazzi di timeout bologna ci sentiremo con i prossimi video prossimi gameplay ciao a tutti al vostro diabotex e adesso andremo con la seconda parte del video ciao ragazzi a dopo ecco la seconda parte del video per quanto riguarda fatex stella allora questo qui come si può vedere il telo no il piccolo telo che è uscito da dentro la moncrux edition poi vi faccio vedere un attimo la confezione eccola qui ragazzi eccola qui la confezione che si apre anche bella grandicella diciamo si apre c'è tutto il contenuto poi troviamo troviamo il gioco in versione giustamente è una versione base dentro no quindi eccolo qui magari lo apro farvi vedere un po da vicino il blu ray eccolo qua ragazzi perfetto possiamo chiudere e adesso vi farò vedere anche le card da vicino che queste a voi piacciono eccole qua questa è la prima ve le faccio vedere tutte ragazzi è qua ve le faccio vedere tutte tranquilli qui ok vedete qui ragazzi sono fatte bene sono fatte veramente bene una collector di alto livello veramente di alto livello qua scorro un po in maniera veloce perché giustamente è così ragazzi è così bisogna scorrere un po veloci ecco qui questa moncrux edition ragazzi è quindi insomma è una collector di un certo livello di un certo livello bello e adesso è l'ultima card ed eccola qui adesso vi farò vedere questo qui è quello che ricopre insomma la confezione ecco qui e adesso farò vedere magari qualche pagina dell'artbook eccolo qua qualche pagina insomma dell'artbook ve lo farò vedere sono 100 e passa pagine quindi diciamo che vederle tutte diventerebbe un po' un problema no quindi diciamo che va bene così dai qualche pagina ve la sfoglio come si deve qui questo insomma è l'artbook rilegato veramente in maniera molto buona sì sono veramente soddisfatto del mio acquisto come sempre il mio istinto non mi tradisce mai ecco qua ragazzi guardate qui che bello guardate qui che bello non so se si saltava una pagina infatti beh ragazzi io a questo punto buh andremo altro po' avanti a farvi vedere l'artbook a questo punto ve lo faccio vedere anche tutto non lo so prima dico no poi lo facciamo vabbè tanto ci troviamo oramai ragazzi questa qui è bellissima come personaggio questa è mi piace in particolar modo ecco molto brada devo dire ecco un po' brada quindi va bene così va bene così ecco qua che bello ragazzi l'artbook eh ditemelo ditemelo che è bello l'artbook ditelo ditelo dovete dirlo voglio sentirlo maremma cinghiala su eh lo so che vi piace lo so lo so ragazzi lo so voi rivolgetevi a temato Bologna ma questa qui non ci danno più disponibile quindi non so se magari la possono procurare o meno comunque provateci voi provateci ragazzi perché l'impossibile non c'è ed io posso confermarlo allora allora ecco adesso forse queste pagine qui possiamo anche saltarle se non ci sono più immagini vediamo un po' sì 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 non ci sono più immagini quindi va bene così ragazzi quindi questo è stato l'unboxing di Fatex Stella vi metto tutto qui insomma così vedete un po' tutto il contenuto ecco qui ci sono anche le sue belle carte le mettiamo lì e insomma ragazzi questo è tutto il contenuto per quanto riguarda Fatex Stella quindi un saluto a tutti dal vostro Diablotex ragazzi questo qui è stato l'unboxing spero che vi sia piaciuto lasciate un like e iscrivetevi sul mio canale continuate a seguirmi perché comunque ci divertiremo ciao a tutti e alla prossima ragazzi ciao